Benvenuti in studio per una nuova puntata di ASEA Notizie. Diamo il benvenuto come sempre a Mauro Ghiringhelli segretario ASEA ben ritrovato. Grazie buongiorno a tutti. Dedichiamo questa puntata come promesso la volta scorsa all'assemblea che si svolgerà come appunto di consueto annualmente il 18 maggio a Varese alle Villeponti. Sì torniamo alle Villeponti dopo un anno in cui siamo andati a Volandia abbiamo fatto una manifestazione un po' originale diciamo così che però è piaciuta parecchio torniamo nella nostra location tradizionale che è Villeponti e torniamo anche perché quest'anno c'è un appuntamento particolare di conseguenza dopo il quadriennio SCA del Consiglio di conseguenza quest'anno ci sarà il rinnovo anche delle cariche di conseguenza è un momento molto importante un momento anche di riflessione e di valutazione anche di quello che è stato fatto in questi quattro anni per cui invitiamo ancora di più le aziende a partecipare a questa manifestazione ripeto che si terrà come abbiamo detto il 18 di maggio sabato 18 maggio nel pomeriggio e appunto oltre diciamo alla solita relazione del Presidente e consuntivo dei bilanci annuali ci sarà un momento delle votazioni per cui tutte le imprese sono invitate ad intervenire ed esprimere il proprio voto perché è un momento anche importante per loro per riuscire appunto a comprendere cosa è stato fatto e quali sono anche i programmi futuri dell'associazione. Appunto dicevamo un appuntamento annuale importante ricordare che ogni anno viene dato spazio anche un tema di particolare attualità intorno al quale si parla e si discute quest'anno in particolar modo si parlerà della TAV. Sì si parla della TAV anche se devo dire che agli associati non piace mai molto sentire tante parole infatti cercheremo di fare un convegno abbastanza breve però l'argomento ci sembrava di grande attualità ecco pensavamo che fosse a questa data a questo periodo un argomento già deciso invece la decisione anche da parte del governo è stata rinviata di conseguenza abbiamo pensato di dare spazio a una delle tante controanalisi che sono state realizzate in questi mesi sulla base appunto di quello del piano presentato al governo una controanalisi predisposta da una fondazione fondazione ergo di Varesi di conseguenza abbiamo voluto dare spazio anche a una realtà varisina dove appunto si vanno ad analizzare i costi e i benefici che quest'opera dovrebbe portare di conseguenza va un po' a contraddire quello che è stato presentato al governo di conseguenza un po' quello che le varie associazioni imprenditoriali stanno portando avanti in questi mesi cioè il fatto che la realizzazione di quest'opera è indispensabile per mantenere l'Italia all'interno dell'economia europea di conseguenza non si tratta semplicemente di una tratta Torino-Lione come spesso si parla anche da parte nostra ma è una parte di una direttrice europea di conseguenza è chiaro che senza questa direttrice l'Italia rimarrebbe fuori da ogni tipo di economia europea per cui al di là degli aspetti economici che ripeto che tratteremo in maniera dettagliate che poi vedremo alla fine non portano al risultato così negativo come sembrerebbe quello che tutte le associazioni imprenditoriali stanno spingendo appunto per realizzazione ecco anche la nostra confederazione è intervenuta in varie manifestazioni ci sono state anche a Torino soprattutto a Torino perché chiaramente il centro include Torino però quest'opera ha senz'altro delle ripercussioni anche sul nostro territorio di conseguenza è importante connettersi al resto d'Europa qualcuno potrebbe pensare che un'associazione principalmente di autotrasportatori è favorevole a un'opera che porta le merci sui treni però l'abbiamo sempre detto anche in queste puntate in queste occasioni di confronto non sono due modalità contrapposte alternative assolutamente la gomma e il ferro sono due modalità che devono essere presenti tutte e due perché è chiaro che sulle lunghe tratte la gomma non è più concorrenziale e non è più logico fare delle lunghe tratte su gomma per cui è necessario che ci sia il treno che ci sia anche la nave sulle brevi tratte invece è chiaro che ci sarà sempre la parte finale la parte iniziale su gomma per cui è importante capire esattamente dove andremo con quest'opera bisogna appunto lavorare in continuità anche con un occhio di riguardo per l'aspetto ambientale dunque poter alternare ferro e gomma consente anche di tutelare il più possibile l'ambiente assolutamente ecco questo è uno di quei costi benefici che dovrà essere analizzato con molta attenzione per cui invitiamo tutti anche magari chi non è trasportatore in senso stretto magari a intervenire a questo momento di confronto perché usciranno senz'altro dei risultati abbastanza sorprendenti bene dunque l'appuntamento ricordiamo il 18 maggio Varese alle Ville Ponti io intanto la ringrazio per questa chiacchierata ci vedremo sicuramente nella prossima puntata di Eseo Notizie grazie a tutti, buonasera grazie, arrivederci grazie a tutti grazie a tutti